Che significato ha questo 25 aprile? Far rivivere sempre nella vita delle persone la memoria della resistenza. In questo 2016? A maggior ragione, con tutti i rivolgiti nazi fascisti che ci stanno in Italia e nel mondo, servirebbe una nuova resistenza. Soprattutto in difesa della Costituzione che qualche figura vorrebbe calpessare, oltre che cancellare. Grazie. Prego. Che significato ha per te questo 25 aprile? Il significato più alto di quello che possa significare la parola libertà. Il significato che ha per tutti, per me come immagino per tutti gli altri. Un significato di ricordo, una voglia di ricordare il massimo sacrificio effettuato da tantissime persone e soprattutto da tantissimi giovani.